Un via libera senza polemiche, addirittura senza dibattito. Il bilancio di previsione 2012 del Comune di Parre è stato approvato nel corso dell'ultima seduta di Consiglio con il voto a favore del gruppo di maggioranza della Lega Nord. Si sono invece astenuti i consiglieri di minoranza delle liste civiche Parre C'è insieme per Parre. La manovra economica illustrata dal sindaco Francesco Ferrari pareggia a poco più di 2 milioni e 300 mila euro. Come annunciato, le aliquote IMU saranno del 4 per mille sulla prima casa e del 7,9 sulla seconda. Stando alle simulazioni effettuate dagli uffici, l'imposta dovrebbe dare un gettito di circa 780 mila euro di cui solo 440 mila resteranno nelle casse comunali. Rimane invariata l'addizionale IRPEF allo 0,3% con un gettito previsto di 90 mila euro. Calano i trasferimenti dello Stato, quest'anno sono previsti circa 550 mila euro, 50 mila in meno dell'anno scorso. Ma quando saranno più chiari gli introiti derivanti dal LIMU, il taglio potrebbe essere più consistente. Scarno il programma delle opere pubbliche che nell'anno in corso prevede un solo intervento, il primo lotto del marciapiede in Via Libertà, la provinciale che sale verso il paese. Un'opera da 150 mila euro subordinata a un intervento di Uniacque sulla rete fognaria. Nel 2013 è poi prevista la riqualificazione di Piazza Fontana per 105 mila euro. Si sta pensando poi al rifacimento dell'illuminazione pubblica con punti luce a LED. Anche il piano delle opere pubbliche è stato approvato con i voti della maggioranza e l'astensione delle minoranze. Il Consiglio ha vissuto un momento significativo ad inizio seduta, con il conferimento della cittadinanza onoraria Gaetano Salemi, fondatore e per diversi anni allenatore della squadra di pallacanestro Casigasa, che già nel nome porta le iniziali di chi nel 1972 l'ha fatta nascere, Salemi appunto e Silvia Carissoni. Il sindaco ha sottolineato non solo i risultati raggiunti dalla società, che hanno avuto il loro punto più alto con la promozione in Serie B, ma anche il contributo alla crescita sociale e umana di tante ragazze del paese. Per i brillanti risultati ottenuti dalla Cavigasa, che è stata annoverata nel libro d'oro del campionato di pallacanestro di Serie B, il sindaco Francesco Ferrara, il 31 maggio 2012. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. 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 Applausi.